Nello scorso video è iniziato il nostro percorso in questo prestigioso torneo semiprofessionistico in Croazia dove siamo riusciti a totalizzare ben 4 punti nelle prime due partite giocate In questo episodio dovremo andare ad affrontare l'ultimo avversario del girone, nonché la prima in classifica Per poterci qualificare avremo bisogno di vincere a tutti i costi quest'ultima partita Riusciremo nell'impresa di vincere e garantirci così il passaggio alle semifinali di questo splendido torneo in Croazia? Beh, andiamola a scoprire Tanti auguri a te Tanti auguri a Marcello Tanti auguri a te Tanti auguri a te Ma noi non molliamo mai Buongiorno! 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 Comun transformed! Oggi è il giorno in portata Ti posso dire farai tre gol oggi Se giochi Non uscite fuori dalla partita mentalmente Siate lucidi Ma soprattutto la velocità di pensiero che serve Che conta Perché nella vostra categoria Se siete un passo mental Solo mentalmente Non dati tecniche fisiche Non conta niente Però se mentalmente siete più avanti Siete più veloci Rimbattete tutti E si parte già da 1 a 0 Tutti per 1 Tutti per 1 1 per tutti Tutti per 1 1 per tutti Quando abbiamo palla abbiamo messo i stretti e compatti Partiamo stretti e compatti Andatela 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 Ieri Faci Calari E sempre Faci Ieri Anzi Anzi Siediamoci! Antetis! Antetis Paolo! Dottor, Dottor! Siediamoci! Grazie a tutti! Siediamoci! 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 bravo vai te vai te 70 verso la porta va bene va bene bravi bravi va bene torna 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 ci manca l'ultima fase la fase finale non difessivo perché stiamo facendo tutto sommato bene perché stiamo coprendo bene e non ci sono grossi però ci manca quella parte finale ok ci manca quello step in più stavamo giocando contro il vento è difficile la palla va all'interno ora abbiamo il vento a favore quindi si vede che dobbiamo calciare più piano e imprimere meno forza perché la palla schizza ragazzi va meritate le vittorie non so che mancano si riduppi degli altri spingono più alzi livello più il gioco è questo più ruttiamo bravi 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.